La tragica fine di Eluana Englaro, l'odissea dei genitori che in modo ferreo hanno voluto che la ragazza rimanesse in Italia e non andasse in Svizzera e da qui la sua tragica morte, hanno segnato davvero per il nostro paese uno spartiacque che si è risolto solo recentemente con una legge approvata dal Parlamento sul fine vita. Comunque la si pensi una legge di questo genere ci voleva, noi abbiamo assistito a persone che andavano in Svizzera a cercare la dolce morte e anche al fatto che non si potesse scegliere come finire la propria vita. Insomma noi crediamo che questa sia stata una decisione ed un gesto importante, perché la politica non può essere solo mettere in ordine i conti se poi ci riesce o pensare alla scheda elettorale, politica nel senso alto del termine è proprio fare sintesi per trovare una soluzione anche a queste tematiche che sono così laceranti per le famiglie e per il paese.